Stakeholder pubblici e privati, società civile e scolaresche. Sono molteplici i soggetti coinvolti attraverso un ciclo di incontri nell'ambito del progetto Salviamo il mare, l'iniziativa realizzata da Conf Cooperative Puglia nelle marinerie pugliesi di Manfredonia, Biceglie e Bari, Torre a Mare, Monopoli e Castro. Obiettivo dell'iniziativa, cofinanziata con risorse FEAMP, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca, PO 2014-2020, misura 1.40 attraverso un bando della Regione Puglia, contribuire a promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti recuperati in mare durante le battute di pesca. Un progetto ampio e articolato che vede in prima linea le circa 150 imbarcazioni coinvolte, impegnate nel recupero e nel corretto conferimento dei rifiuti stati accidentalmente insieme al pescato. Conf Cooperative proverà attraverso il mio impegno a rendere questa attività un'attività permanente. I pescatori devono avere sempre un riferimento dove conferire il rifiuto. Su questo ci sarà veramente tutto il mio impegno affinché anche le istituzioni si adoperino per provare a creare una filiera chiusa e quindi partiamo dal rifiuto che il pescatore ci porta a terra e proviamo veramente a riciclarlo in casa.